Signori miei cari eccoci qui bentornati, siamo tornati per il quarto o quinto anno consecutivo, ormai una tradizione sulle carriere simulate questa volta su NBA 2K24 e cominciamo con quello che a detta di tutti, vedremo, ma a detta di tutti è il nuovo GOAT, il prossimo LeBron James oh madonna il miglior prospetto di sempre dell'NBA, ovvero Victorone Uembanianone dovete sapere che questo video io l'avevo già registrato la parte 1 con tutta calma ma c'è stato un bel problema e adesso vi devo rubare un minuto ma è importante per la serie perché cosa andiamo a fare in queste carriere simulate per chi magari arriva a questa ed è nuovo andiamo a prendere un giocatore in questo caso Uembanian ma gli andiamo a mettere potenziale 99 cosa che in questo caso non ho dovuto fare perché il gioco già glielo dava andiamo a simulare tutta la sua intera carriera per vedere quanti titoli, che record dove andrà a giocare e così noi prenderemo giusto qualche decisione nel senso il ruolo in cui farlo giocare o di preciso se farlo giocare titolare di serve a queste cose qui per il resto come trade free agency draft lasceremo fare tutto tutto alla CPU questa infatti è la situazione alla nostra primissima stagione all'inizio con il buon Wemby che è già il miglior giocatore a quanto pare degli Spurs su NBA 2K ma quello che vi devo dire è molto importante perché sto registrando, riregistrando questo episodio? perché mi sono accorto che quest'anno le simulazioni su NBA 2K sono rotte non c'è nessun altro modo di dirlo, rotte in senso negativo perché dopo 3-4 stagioni giocatori da 86-85-84 per non parlare degli 80-81 di overall rimangono free agent perché tutte le squadre offrono contratti mastodontici grazie al nuovo salary cap peccato che il nuovo salary cap non funziona su NBA 2K quindi siamo ben messi per farciò, grazie anche all'aiuto di Marco che ringrazio il modo delle live su Twitch se seguite saprete chi è abbiamo modificato insieme a lui un paio di impostazioni per quanto riguarda i contratti e anche altre cose di cui vi parlo fra un attimo per provare a abbassare tutti i contratti in maniera tale che sì, siano più bassi del previsto e magari leggermente inverosimili ma almeno non ci sono Julius Randle, Sengun, Vesse l'ho visto RJ Barrett, Middleton, Arden, fra 5 anni l'ho visto free agent con 83 di overall da regolazione di indicatori, contratti potete andare qui a modificare io, credetemi, ho già provato a sbisigare tutte queste cose qui sarebbe da togliere il tetto salariale ma allora perde un po' di senso sono andato a modificare un po' queste cose qui grazie appunto a Marco e poi, visto che queste nuove impostazioni generavano una situazione un po' randomica di firmi dei contratti con i grandi giocatori che cambiavano squadra ogni 3 anni alla scadenza del contratto ho provato a rendere più facile alla CPU rifirmare i giocatori nelle proprie squadre non troppo ma un po', vediamo come funziona dovrete incrociare le dita assieme a me e soprattutto lasciare un bel mi piace perché questo è stato un lavoro abbastanza pesante non oltre già registrare di nuovo la stessa cosa ma facciamo le cose e facciamole fatte bene adesso cominciamo Allora, innanzitutto fermiamoci la trade deadline dove Draymond Green finalmente si è riunito al suo re LeBron James Bruyacimura e Cameradish per Draymond Green non lo so che senso abbia per entrambe ma va bene così noi, ma per noi intendo la CPU ha fatto una trade e abbiamo preso Ben Simmons non lo so spero sia stata anche qualche scelta ma non c'è scritta quindi temo proprio di no e Jordan Hall, non so se è un giovane promettente ovviamente il buon Wemby ha la faccia anche che partitina che si è fatto nel Rising Star Challenge 29 minuti, 27 punti, 8 rimbalzi per lui nella sconfitta però in realtà 104-82 vediamo se per sbaglio ha fatto l'All-Star Game già la prima stagione, non credo, eh no, vabbè, ci sta minchia, è già moranta vincersi l'MVP qui non credo fosse squalificato le prime 25 partite perché nel Ross e su Tuket di solito non ci sono questi dettagli e quando troveremo un roster fatto bene avremo anche le squalifiche 33 punti, 6 rimbalzi, 8 assist e mezzo e un recupero per lui alla faccia volevo dire, questa è la cosa più importante Victorone, Wemba, andiamo con delle statistiche ottime ma come vedete un po' meno buggate di quelle che erano l'anno scorso nei draft creati da Jack Move su 2k23 18 punti, 9 rimbalzi e mezzo, 2 assist 2 stoppate e un recupero con 43 dal campo, 82 e mezzo ai liberi e 31 da 3 comunque un'eccellente stagione da rookie Sibb Vestromo dell'anno Claxton, Defensive Player of the Year Paul Reed, Most Improved e Shai, Clutch Player of the Year Nick Nurse, Coach A6, Salernatore dell'anno Tutti roti nel primo quintetto dell'NBA Morant, Doncic, Shai, Jokic, Antetokubo madonna mia che disastro Victorone ovviamente in quanto matricola dell'anno si è fatto il primo quintetto matricole vado qui non tanto per farvi rivedere le statistiche così come quelle degli altri che ci interessano il giusto ma per farvi notare le 82 partite giocate iniziate in quintetto su 82 quindi a meno su 2K i dubbi sulla sua salute sono per adesso diradati ci sono gli infortuni per questo ve lo dico ovviamente abbassati perché sennò su 2K è un calvario ovviamente non ve lo dico non abbiamo fatto i playoff ma non solo non abbiamo neanche fatto cioè abbiamo fatto l'ultimo record della Western Conference a pari con i Blazers ma neanche per idea l'ultimo dell'NBA perché Est tankano brutto più brutto di noi dovremmo avere intorno alla quinta scelta abbiamo un pazzo Phoenix Golden State bello CP3 contro Phoenix Gas sarebbe in fine di conference vediamo chi passa il turno Phoenix 4 a 0 vabbè ok Phoenix Celtics beh tutto sommato anche mezza potrebbe essere realistica gara a 7 e Booker fa vincere il primo titolo nella storia dei Suns e primo titolo per sé primo titolo di MVP delle Finals buona lì nella draft lottery ci siamo con la numero 6 che l'anno scorso avrei risultato per chi era baggata occhio che quest'anno in realtà sembra baggata la 9 nella lottery la 2 di Charlotte che però non è nostra perché è protetta in lotteria ve lo dico con certezza quella del spursa la 11 da Toronto non so bene quanto sia protetta vediamo tra l'altro aggiungo una cosa intanto che ci guardiamo la lottery stanno per chiudersi o comunque si riapriano poi nelle prossime settimane le iscrizioni per il Fippi Basket Tour 2024 2k24 tornei gratis per voi PS5 Xbox Serie X 1 contro 1 3 contro 3 5 contro 5 ogni torneo mette in palio dei punti per il ranking totale per avere poi il premio finale e la finale con viaggio e pernottamento spesato dalla federazione ma soprattutto gadget a ogni tappa quindi se vincete la tappa e credetemi possiamo provare tutti il gioco anch'io for fun se volete giocare contro i me mandate una mail quindi a ibasketchiocelafit.it che dicevo gadget magliette pantaloncini cappellini zaini palloni più ne ha più ne mente roba anche firmata di Ital Basket quindi ricordatevi questa cosa qui non siamo alla 11 abbiamo sculato siamo alla 8 però la 8 è la nostra mamma mia la 6 è diventata la 8 è in realtà andata male perché evidentemente i Repsos ce l'avevano top 5 protetta o top 10 perché nell'altra simulazione era stata nostra la scelta per quello vi dico ma c'era una protezione e quindi purtroppo abbiamo solo la 8 e questo non aiuta molto il nostro rebuilding vediamo un po' comunque la 8 si può prendere qualcuno di buono mi raccomando per i tornei ci tengo che sono parte integrante del movimento io faccio telecronache per le finali e ho incentivato anch'io la presenza dei gadget per chi vince i tornei quindi ci tengo molto se parteci Justin Edwards alla 1 come Justin Edwards alla 1 Alexander Sar alla 2 ma scusami ah Matt Mattas vabbè casomai li cambio il nome io Mattas Buzzelis alla 3 mamma mia i Thunder è andato oh mamma mia oh mamma mia Isaiah Collier alla 4 alla 5 Ron Holland alla 6 nessuno l'ha scambiato la scelta McKenzie non ho mai capito come si pronuncia alla 7 Blazer Stefan Cassel e noi chi prendiamo con la numero 8 assoluta la scambiamo no DJ Wagner ah volevano un play evidentemente l'altro è andato via abbiamo preso DJ va bene un'altra cosa che andrò a toccare io personalmente è questa schermata qui un po' per via di quel problema dei contratti un po' perché la CPU non è brava a gestire il capo nel senso che glielo devo liberare io di questi giocatori che non ha senso quindi questa cosa del capo lo prenderò io poi loro sono liberi di rifirmare comunque questi qui oppure non rifirmare deve investire che io lascerò il capo sono liberi di fare quello che vogliono ovviamente però almeno io do una mano in questo senso qui eccoci qua il progresso giocatore ed eccoci qua che è arrivato il primo acquisto della nostra vita gli Spurs qui con noi mamma mia vabbè i contratti prendiamo sempre con le pinze quello che vedo qui però questo triennale con Clay Thompson che ha già 83 di overall Wemby intanto è nato 86 siamo saliti tutti come vedete bene così vediamo un po' dove ci portano questi Spurs seconda stagione sempre con Wemby miglior giocatore e più minuti per tutti una rotazione molto più aggiustata con Ben Simmons e sto uomo di lusso vabbè il nostro playmaker per adesso non gioca tanti minuti speriamo gli aumentino poi durante la stagione puntiamo a fare i playoff ma in realtà se si può evitare ancora una stagione altra trade deadline altra trade per gli Spurs anche qui non vedo perché dovremmo dare via noi delle scelte al draft però vabbè ok per PJ Washing che comunque è un giovane di un certo interesse e poi un demar de rosa per Joe Holiday così così benvenuti nelle carriere simulate del mio canale al termine della seconda stagione torniamo alla normalità di NBA 2K23 con Donjic MVP ma niente triple l'opera di media solo solo 31 9 rimbazzi 10 assist e mezzo recupero con le solite statistiche ah ah hai capito Bronnino James dei Tiboros che si vince il rookie of the year questo non non l'ho visto molto in queste prime simulazioni che ho fatto 15 punti 4 rimbazzi 7 assist e mezzo ok Christian Wutz è sto modellando nei Clippers Evan Mowgli difensibile most improved Donjic vince anche il class player of the year e JB biggest tough coach of the year Victor non è un bambayama a sorpresa devo dire la verità perché non ha fatto lo star game eppure non facendo lo star game ha fatto il terzo quintetto l'NBA questa cosa è un po' strana però alla seconda stagione tanta roba e primo quintetto difensivo wow sono 21 e mezzo 10 rimbalzi e mezzo 3 assist tu recupero e 2 stoppate e mezzo ti credo primo quintetto difensivo col 43 dal campo il 32 e mezzo che schifo da 3 e l'88% è liberi ok Clay comunque secondo migliorizzatore tutto ciò valido per il decimo posto quindi nella corsa playoff ci siamo ancora io ripeto ecco sarebbe meglio uscire intanto abbiamo bagnato i piedi contro i Grizzis che sono un'ottima squadra Wemby ha il suo esordio tra virgolette in post season 25-10 un assist e 3 recuperi col 50 dal campo e 53 una brutta partita direi assolutamente no abbiamo perso contro una squadra più forte di noi abbiamo una scelta in lottery sinceramente va benissimo così il titolo se lo andranno a giocare i Magic contro i Thunder e Paolone Banchero hai capito ci ha messo già alzato l'asticella se ben vi ricordate Paolone assieme a Evan Moby detiene la maggior parte dei record delle nostre carriere simulate come numero di titoli numero di MVP record poi di punti assist partite giocate totali cioè lui ha fatto l'anno scorso io magari ve la lascio in descrizione ha fatto una carriera simulata insensata Paolone quando ancora si pensava e sembrava dovesse venire a giocare con l'Italia nei mondiali e qui arriva però una bruttissima notizia ovvero Popovic che si ritira l'ho già fatto sritirare un anno non è detto che l'anno dopo si ritirino per forza magari ne passa uno o due nel mezzo purtroppo invece ha fatto back to back il Pop non ne può più e questo sarà un po' un problema nello sviluppo e magari nella permanenza di Wemby agli Spurs perché attenzione noi non lo sappiamo non lo possiamo sapere allora la nostra 12 è rimasta la 12 vedendo i Bulls alla 7 credo che la speranza di avere la scelta dei Bulls non sia più e non esista più oppure stiamo facendo stiamo per fare anzi una sculata ma non credo mi sa che l'abbiamo presa in quel posto due lotteri su due e niente Bulls da Portan oltretutto quindi i Bulls hanno fatto l'affarone 7 e 3 alla 2 ci sono i Thunder ancora dai Clippers dopo aver preso Mattas Bozzelli la stagione prima e alla 1 ci sono effettivamente i Rockets quindi niente da fare per noi vediamo un po' allora questo Draft NBA 2025 qui c'è Bryce James se non sbaglio l'altro figlio di Lebron Ace Bailey alla 1 qui comincio a non conoscere abbiamo uno scambio alla 2 attenzione comincio a non conoscere bene i giocatori devo dire alla 2 Anthony minchia Anthony Simon e Jeremy Grant Portland va in rebuild non tradando Lillard però boh però forse così lascia spazio a Scoot Anderson vediamo chi prendono alla 2 una guardia no grazie a Dio una alla grande ecco Cooper Flagg lo conosco perché dicono tutti essere la prima scelta al draft 2025 vedremo vedremo bella mossa da parte di Portland i Bulls scambiano anche loro la 3 draft pazzo non ci posso credere bella mossa di Portland bella mossa di Portland che riscambia la 2 per la 3 per prendere Vucevic madonna santa e poi prendere una guardia bella mossa di Portland mamma mia che gufata eccoci qui alla 12 cosa facciamo 3 Johnson una guardia siamo andati a scegliere ok ci sta ci sta Clay Thompson di certo non durerà per sempre per fortuna anche visto il contratto che hanno Sir Canning è sceso alla 13 vediamo come sarà il ragazzo ehi la 77 il ragazzo preso la 12 Deom al progresso giocatori vedo arrivato Laurie Markanen uh ah però questi spursi muovono sul mercato con un contrattino non male cioè bello pesante ma comunque nel suo prime Wemby 91 già la terza stagione la madonna Sochan Thompson è tipo morto potremmo far giocare addirittura lui titolare a questo punto ok ok il nostro playmakerino è salito di 3 bene molto bene abbiamo perso David Vessel però per la strada no mi pare eh sì pronti pronti per iniziare la terza stagione allora questa è la rotazione e questa è assolutamente una squadra playoff sarà pronto Wemby già la terza stagione a carriare una squadra playoff se vogliamo paragonare a Lebron Lebron ha fatto le finals quindi vediamo dove può arrivare Wemby abbiamo fatto un'altra trade alla deadline scambiando PJ Washington è una prima dei Celtics per non so chi però perché non ce l'hanno fatto vedere boh vabbè Joe Schart per Cam Jones vedo Christian Wood per Bogdano invece le squadre si danno un gran che da fare devo farvi vedere anche Kerry Irving per Jonathan Cumminga e si gemme collo ok Kerry che ha firmato i Bucks in free andandosene via e il povero giuro che dopo essere stato tradato l'anno scorso viene tradato anche quest'anno va ai Lakers per Dilo prima volta all star anche per Wemby alla terza zona 18 solo minuti per lui di utilizzo nella sconfitta del team Nicola contro il team Jason però intanto prima volta all star e la Melo quest'anno a vincersi l'MVP 27 punti 5 rimbazzi 11 assist per lui Cooper Fleck il rookie of the year ai Bulls che porcata che hanno fatto i Blazers al draft a Menton sul secondo modellano Evan Moble di difensi per l'era anche il difensi per l'era aspetto da Wemby perché ne vinceva a nasto gli anni scorsi sta facendo due stoppate stagione ecco most improved Derek Lively e Clash Player of the Year Ant-Man e all'entrò dell'anno Steve Clifford questo è il primo quintetto l'MBA ma noi abbiamo fatto un bel passo in avanti passandolo al terzo della seconda stagione al secondo della terza stagione quintetto all'MBA con Wemby molto bene e nuovamente primo difensivo assieme a Cooper Fleck nella stagione da rookie azz sono 21 e 11 rimbalzi le statistiche di Wemby 3 assist e 2,1 stoppate con un recupero poi c'è DJ Wagner qui Clay è assolutamente calato Markkanen ti dirò così così vedo tanti infortuni perché Wagner non ha giocato 82 Markkanen neanche Clay Thompson nonostante tutto gioca ancora 82 qua Trey Johnson addirittura ha giocato solo 15 partite quindi non è una stagione fortunatissima ma ci siamo qualificati per i nostri primi playoff diretti in carriera contro Porter anche ha messo in panchina Lillard per far giocare Scoot Anderson perché non si poteva farli giocare vabbè vedete che fa la CPU per quello devo mettere una mano nelle rotazioni che facciamo vediamo un po' andiamo a perdere la prima e vincere la seconda in trasferta esordio di Wemby playoff che si dice si dice un 13-16-8 tirando male ma è comunque una signora partita due pari dopo le prime quattro vediamo se la quinta subito mettiamo uno zampino sì 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 26-10 rimbalzi molto bene andiamo a vincere in trasferta 107-96 chiudiamola in 4 e passiamo il primo turno no andiamo alla settima e quindi ci tocca vincere di nuovo in trasferta per passare il turno questa volta non lo facciamo si poteva di fare di più con questa squadra siamo tanto giovani siamo inesperti per l'amor del cielo Clitonson e Mark ne hanno giocato un po' con gli altri mi sembra di vedere è ok può succedere però si poteva fare un po' di più quantomeno abbiamo perso contro la squadra che è arrivata alle finals a ovest perché sì i Blazers sono alle finals e le hanno pure vinte vabbè allora sentite abbiamo perso contro la squadra che ha vinto stiamoci scut aia però banchero che vince il titolo l'anno scorso ed MVP delle finals scut che vince il titolo quest'anno ed MVP delle finals e noi con Wemby ancora al palo quest'anno sì che abbiamo la scelta dei Bulls alla 6 ma attenzione Porto che ha vinto il titolo è alla 2 questa cosa mi spaventa e non poco dovremmo avere anche la nostra scelta la 25 sì eccola là vabbè oh la 6 non si butta eh vediamolo un attimo allora assieme questo draft 2026 visto che abbiamo una scelta piuttosto alta eccolo Bryce James al 1 nel 2026 ai Pellicas dove gioca la Bronny ai Timberwolves o ricordo male o ricordo male non giocano assieme però figo ok Cameron Buser alla 2 Malik Thomas alla 3 Darren Peterson alla 4 questi a parte Bryce non ho idea di chi sia coapet lo si sente sempre a nominare ma sì non non li conosco effettivamente San Antonio Spurs alla numero 6 Shaden Kitans sembra francese centro perché non vogliono rifirmare Wemby stiamo scherzando insomma non credo no olè progresso giocatori e guarda che robetta guarda che robetta Marken purtroppo si è un po' incastrato sull'86 di overall però guarda DJ Wagner per dire più 4 ma anche Carson Wallace molto bene il centro che abbiamo preso ha 77 di overall tra l'altro quindi un'ottima scelta non capisco perché scegliere un altro promettente centro con Wemby davanti però vabbè sulla carta l'ultimo di contratto insomma 99,9% nonostante le mie modifiche ai contratti firmerà sicuramente un massimo salariale qui agli Spurs quarta stagione che inzia con una squadra ripeto assolutamente da corsa se non da titolo quindi adesso io vorrei puntare alle finali di conference alla quarta stagione siamo un po' più pronti abbiamo fatto un po' più di esperienza dai 94 di overall forza diamo avanti no? guarda che squadra ci abbiamo dai e la Melobola vincere l'MVP di nuovo 28 punti 5 rimbalzi 10 assist Cameron Buzzer matricola dell'anno a Menton sono sesto uomo dell'anno Evan Moble difensi player non riusciamo a scardinare neanche il buon Evan da difensi player ovviamente ci siamo fatti anche un primo quintetto difensivo perché d'altronde perché privarsene e la stagione è andata con un bel 25 11 e mezzo 4 assist un recupero 2 stoppate certo cifre da paura io vorrei che adesso in questi playoff facciamo un po' più di no un po' più di ciccia forza e invece no due pari dopo le prime 4 contro Minnesota andiamo a vincere gara 5 ok si già ci aspetta Wemby sta facendo delle cifre assurde il problema è che dall'altra parte è questo trio Antman Towns Bronny James cioè Bronny James non lo so dai per piacere oh grazie oh dai game 6 no beh 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 oddio 38 11 rimasti 6 assist 7 stoppate con solo 7 errori dal campo ti dirò effettivamente e c'era il game 6 Paolo per chi se lo ricorderà anche il game 6 Wemby sembra interessante ah ok 4 a 0 va bene non me l'aspettavo devo dire la verità e chiudiamo con i Rockets chiudiamo perché dico che i Rockets non perdono mai primo record della Western Conference in stagione regolare abbiamo sempre preso veramente proprio merda quindi la vedo tosta provare a giocarsela tanto più perché giochiamo in trasferta d'altra parte Charlotte New York oppure la regular season è per i polli a quanto pare altra partitina di Wemby molto bene 3 a 1 4 a 1 e tanti saluti Wemby MVP delle fine di conference prime finals della nostra carriera oh là che bello 26 punti 14 rimbalzi 6 assist 2 recuperi e mezzo 2-3 stoppate praticamente 50-90-40 sta giocando dei playoff proprio quelli che speravo ecco mettiamola così Brandon Miller dall'altra parte MVP delle finali a Est e allora Charlotte contro San Antonio porco 2 che Charlotte 67 vittorie ampiamente miglior record della Lega ah ma i veri mostri allora sono loro non i Rockets ostia ok attenzione però la Melo Ball rotto con pressione nervosa schiena stagione quindi finals senza la Melo mi raccomando DJ approfittane approfittiamone tutti marcan e mi raccomando in marcatura su Brandon Miller forza giochiamo in trasferta andiamo subito a vincere la prima bravissimi bravissimi 26-17-3-4-5 madonna bello ma scusatemi io sono entrato in campo per vedere se riuscivano a rimontare vincere 4-0 4-1 quant'è il titolo e vedo la Melo che ti riliberi ma com'è sta storia non era fuori per la stagione è tornato tipo Willis Reed mamma mia quasi vabbè questa è andata non ci credo non ci credo hanno rimontato hanno fatto 5 punti in 30 secondi e hanno vinto 3 tiri liberi realizzati da marcanen poi errore di tiro in di 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 la Melo errore di Collins e tripla per la vittoria della partita e del titolo di Jeremy Sochan e poi errore all'ultimo secondo non so neanche se la vai o se è scritto probabilmente si e quindi abbiamo vinto il titolo io non ho visto i festeggiamenti perché l'ho data per persa ma sono un cazzo di pagliaccio sono ma non ci posso credere ragazzi no ho sminchiato il primo titolo di Wemby mamma mia però manca far così che sfiga poi mi sono perso un finale incredibile Wemby MVP delle Finals 24 punti 12 rimasti in mezzo 3 assist 2 recuperi 2 stoppate 50-90-40 nelle Finals ale oh beh però sono contento era quello che volevo vedere tra l'altro c'era anche la nuova animazione che fanno cose nuove nella vittoria del titolo tranquilli ragazzi sono sicuro che ne vedremo altre attenzione che pur avendo la 30 qui nascosta dietro la mia sedia abbiamo una 10 tutta talì zitta zitta che magari ci torna comodo i Pelicans e i Rockets scelgono ogni anno nelle prime 5 senza motivo cioè veramente delle trade assurde quelle fatte per Arden e per giuro Holiday non ho idea di chi ci sia in questo draft 2027 diamo un'occhiata AJ D-Bansta dai Bansta oddio non ho idea di chi sia eccoci qua la 10 io la traderei devo essere sincero no loro prendono Caleb Gaskins ok adesso attenzione perché è un'estate molto importante perché come vedete le offerte sono importanti certo è che nessuno può darci il quinquennale che ci danno gli Spurs però occhio ci siamo siamo tornati sia io che DJ Wagner molto bene Marcanen c'è ancora non dirmi che non abbiamo rifirmato Klay Thompson ti prego niente abbiamo rifirmato ah no vabbè però 10 milioni vabbè dai vabbè per fargli fare l'ultima stagione a 76 di overall ci posso anche stare dai ok 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 abbiamo la stessa squadra l'anno scorso anzi con gente che migliora di 4 di overall Webby sta per arrivare al suo massimo overall di del prime credo che DJ Wagner più o meno sia arrivato lì nel prime già avendo 22 anni quindi insomma io non ho boostato particolarmente la crescita quest'anno i giovani forti crescono davvero tanto dai proviamo a rivincere il titolo ma lo faremo nel prossimo episodio perché oggi abbiamo già visto e parlato abbastanza Webby ha vinto un titolo Webby ha firmato un massimo salariale da cifre che fanno girare la testa ripeto i contratti sono quello che sono abbiate pazienza per i motivi che vi ho spiegato all'inizio del video grazie per essere arrivati fino in fondo lasciate un mi piace iscrivetevi al canale vi ovviamente aiuta torneranno anche le live su youtube datemi un momento di organizzare tutto e noi ci vediamo la prossima settimana con l'episodio 2 di Webby e tutti gli altri contenuti in settimana più ovviamente seralmente se esiste le live al prossimo video ciao boys